benvenuti in un nuovo appuntamento con lupoccavul.it stiamo registrando questo demo video da samsung galaxy a3 2016 e facciamo la solita camminata per vedere come si comporta la registrazione vi ricordo che non c'è nessun tipo di stabilizzazione e la fotocamera posteriore da 13 megapixel quella anteriore invece è da 5 megapixel facciamo una panoramica veloce andiamo anche contro luce qui e concludiamo col classico zoom questa volta sulle montagne nevate se si vede qualcosa bene direi che è tutto appuntamento alla recessione completa ciao